Io sono Sabine Longato, la docente del corso di oggi che si titola l'arte del comando. E' un percorso dove si analizza le criticità che si possono incontrare nel momento in cui attraverso per esempio un cambio di ruolo, un'assegnazione, un momento di crescita professionale ci si viene a trovare nella situazione appunto di coordinare staff, gruppi di persone, gruppi di collaboratori e quindi attraverso questo percorso facciamo un'analisi e forniamo degli strumenti, dei punti di vista e degli spunti per individuare il modo migliore per esercitare la propria leadership, motivare i collaboratori e ottenere appunto il massimo dalle risorse messe a disposizione dell'azienda con un occhio anche alle evoluzioni da un punto di vista diciamo delle opportunità legislative e giuridiche nell'ambito del mondo del lavoro che sono in via di trasformazione in questo periodo.